L'Italian Port Days è un'iniziativa delle Port Authority italiane lodevole e importantissima. La Venezia Port Community sarà al fianco, sostenendo questa iniziativa, con delle testimonianze reali di tante donne e tanti uomini che quotidianamente lavorano a bordo delle navi, in banchina, nelle industrie dei porti di Venezia e di Chioggia. È fondamentale avvicinare la città e la cittadinanza al porto. Questo permette di dare la giusta dimensione al fenomeno dell'economia del mare, un'economia così importante sia in termini economici che strategici. Dal punto di vista economico, perché il Veneto è la seconda regione per export e pila a livello nazionale. Da un punto di vista strategico, invece, durante il periodo del Covid abbiamo capito quanto sia fondamentale la logistica e i porti per garantire l'approvvigionamento sia ai privati che alle aziende. Quindi diventa strategico e fondamentale capire come l'unione tra porto e città deve diventare una risorsa fondamentale, soprattutto per le nostre nuove generazioni. Un'iniziativa come quella degli Italian Port Days è l'iniziativa che serve per confermare questo principio. Port Days è cominciato il countdown, vi aspettiamo!